Allora, apri un secondo. Allora, spiegaci quali sono le sue intenzioni. Allora, è reale. Dai! Allora, oggi ho detto che l'anno fatto il lavoro sulla colonna montante dovrei dare accesso, ma fino alle 20 e 30 di questa sera è possibile utilizzarlo. Per questo ho adottato una tecnica nuova, indomattiva diciamo. Siamo arrivati, sono già pronto, io voglio evitare. Chiamata la busta epocompattibile. Oppure? Il profilattico cacattico. Sì, cacattico. Ho inteso, la busta non tocca nemmeno l'acqua, quindi non c'è problema di pressione, di spinta, quindi per la questione dei passi comunicanti potrei sfuggere l'acqua sotto. No, perché non ci arriva. Ecco, quando io mi siedo, blocco anche la busta. Ma lei è sicura? Ma quindi fa sia il cello che il liquido? Il liquido fa quanto dovremo, per quello gliela passeremo agli amici. Oh, grazie. Adesso mi sembra però lasciare. Sento un'ultima domanda di ordine tecnico. Non pensa che il peso di quanto espellerà potrà far scivolare dai bordi il profilattico? Come ho già spiegato, il testo della mia persona bloccherà la busta agli adtrimenti. E quindi... E che è il peso? Vediamo un po', vediamo un po' il peso. Eccolo qua, il peso della sua persona. Arrivederci. Buon lavoro. E ci tengo aggiornato sui futuri sviluppi. Abbiamo anche un ottimo giornale della sega. Si chiama Mac con la Martina Palambarica. Ma lei è vecchia. Non dava le mani da vecchi. Credo che non l'ho avviso? No. Sì, no. Sì, è abbastanza. Comunque. Buone cose. Compro i fatti. Ciao. Ciao.